Una targa commemorativa sarà affissa nella casa natale del magistrato Gaetano Costa, ucciso dalla mafia a Palermo il 6 agosto 1980, quando un killer lo freddò a colpi di pistola mentre, da solo e senza scorta, ammirava alcuni libri esposti in una bancarella in via Cavour, a due passi dal Teatro Massimo. Costa, nativo di Caltanissetta, aveva vissuto in via Danese, nella zona tra i quartieri San Giuseppe e Provvidenza. L'iniziativa è stata promossa dal presidente dello stesso comitato di quartiere San Giuseppe e Provvidenza, Marco Darma. Il magistrato nisseno era stato nominato procuratore di Palermo nel 1978 e aveva coordinato una serie di inchieste contro la mafia. Era stato tra i primi a capire l'importanza di aggredire i patrimoni riconducibili all'organizzazione criminale. Erano gli anni in cui la guerra fra Cosche, poi vinta dai corleonesi guidati da Totò Riina, aveva ammietuto un migliaio di vittime ed era stato lui a firmare personalmente numerosi mandati di cattura nei confronti di affiliati avvicinati alla mafia dopo che i suoi sostituti si erano rifiutati di farlo.